Manovra un macchinario di lavoro ma qualcosa va storto e si ferisce gravemente lesionandosi alcune costole. Un grave incidente sul lavoro ha coinvolto intorno alle 12.30 di questa mattina il 51enne Pasquale D'Alessandro, operaio di Tuturano impiegato presso l'impianto di compostaggio gestito dalla nubile SRL sulla strada Perpandi nella zona industriale di Brindisi. In un primo momento si pensava che l'uomo fosse stato investito da un tir o da una tramoggia. Sul posto avvisati dai colleghi del lavoratore una battuglia delle volanti che ha effettuato i rilievi del caso insieme ai funzionari del Dipartimento Spesal dell'Astra di Brindisi. La polizia municipale è naturalmente un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Perrino. All'arrivo al nosocomio brindisino nonostante le condizioni non buone del ferito i medici hanno scongiurato il pericolo di vita e una volta curato hanno dichiarato per l'operaio 51enne la prognosi di guarigione di 20 giorni.